Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video, io sono IG23 e oggi, come sicuramente avrete letto dal titolo, andremo a vedere come ricevere in modo completamente gratuito tutte le skin dell'evento Angelo e Demoni su Brawl Stars. Prima di passare al video, se ancora non l'avete fatto, vi consiglio di vedere questo video che vi sto lasciando qui la scheda, che è un metodo davvero molto importante per salire velocemente di coppe ogni giorno su Brawl Stars, specialmente se siete agli inizi, quindi mi raccomando, dategli un'occhiata. Però sì sì, tranquilli, ora andiamo in game. Prima di andare a vedere come ricevere le skin angeliche e demoniche in modo completamente gratuito, ho ad aprire 4 star drop, che io sceglierò quelle ovviamente demonici, e se ve lo state chiedendo, come è possibile che abbia fatto solo 2 vittorie in 15 partite, ve lo spiego subito, perché gioco sempre questa modalità, questo evento in random, e come potete ben sapere in random sono sempre... non diciamo niente. Andiamo con gli star drop demonici, vabbè, dopo vediamo anche Shade, andiamo col primo, abbastanza tranquillo, andiamo col secondo, niente di che, sarebbe tipo super raro se non sbaglio, questo pure super raro. Abbiamo l'ultimissimo, ti prego, ti prego fermati, no questo è mitico, che cos'è? 200 bling, che non mi ci faccio niente, però va bene. Ma ora vi starete chiedendo, Mike, quindi come faccio a ricevere queste skin angeliche e demoniche in modo completamente gratuito? Vi spiego, come potete ben vedere già qui sotto a destra, ogni volta che noi facciamo, ogni giorno, praticamente Brostar ci dà a disposizione 3 star drop, a seconda di come siamo sia demoni che angelici, e quindi già abbiamo 3 star drop gratis. Poi in più abbiamo questo evento, come potete ben vedere, ogni 3 giorni possiamo ricevere un massimo di 20 star drop, quindi raga, tanta roba. Niente raga, piano piano fidatevi che questi star drop gratis vi permettono di trovare sempre qualche skin, raga, è sempre così, quindi mi raccomando non andate nel negozio e andate a shoppare tutti questi soldi, perché vi ricordo che per queste skin hypercharge di Edgar e di Mortis, sì ragazzi, sono bellissime, ma costano più di 100 euro ciascuna, raga, quindi 100 euro solo per una skin, raga, è bellissimo, eh, nessuno lo mette in dubbio, però raga, sono sempre 100 euro per una skin, io non so se voi volete davvero acquistare 100 euro di skin, raga. Poi, partendo dal fatto che qui ovviamente, qui sicuramente troverete qualche skin, raga, però, ora vi faccio vedere quello che ho trovato io. Ora vi faccio vedere tutte le skin angeliche e demoniche che ho io, quindi quelle che ho trovato, e iniziamo dalla prima che mi ha regalato la Supercell, ovviamente come chi non lo sa, raga, io sono official, creato Supercell, e la Supercell ci dà delle skin, ogni mese ci regala delle skin a noi che sono magari, possono essere un po' più particolari, come la scorsa, scorso mese è stato Hank Guardiano, che ho regalato anche a voi, e guardate questa qua è bellissima, è questa di Maxine, si può trovare anche negli star drop angelici, poi abbiamo, andiamo a vedere un'altra, beh, questa qua, raga, è quella del pass, in tre varianti, chi ha preso il pass plus ha tutte e tre le varianti come me, ma io preferisco questa perché mi dà un tocco di angelico in più, poi abbiamo, 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 una, eh, ok, poi abbiamo Ems, iniziamo con quelle demoniache, questa bellissima, poi andiamo, c'erebbe anche quella di Colt demoniaco, che io non c'ho, che sarebbe questo, che potete trovarlo anche negli star drop demonici, ma io non l'ho shoppata perché ho preferito prendere questa, quindi giudicatemi, però raga, a me piaceva più questa, e poi abbiamo, c'erebbe anche Bo demoniaco, eccolo qui, che potete trovarlo anche questo negli star drop demonici, io non l'ho trovato, nemmeno io questo, poi abbiamo, 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 un altro, fatemi controllare, vabbè, Mortis lasciamo stare, BB va bene, Corvo ok, ok, poi ci abbiamo Lily, Lily, raga, questa qua è Lily Angelica, skin secondo me, a mio parere, una delle più belle di Lily, perché penso che sia la prima, sì, è la prima, ma è bellissima questa skin, secondo me è bellissima, e si può trovare nelle classificate, io ho avuto un po' di fortuna, l'ho trovato già a bronzo 2, quindi non mi posso ritenere abbastanza fortunato, raga, eccola qui, questa qui è bellissima, e abbiamo quella di Willow, questa qua, a mio parere, raga, è una delle più belle dell'evento, togliendo ovviamente le skin hypercharge, ed è questa qui, davvero, davvero bellissima, e poi abbiamo, abbiamo questa qua che non è collegato con, qualcuno magari si era sbagliato in chat da main live, questo non è collegato con gli star drop angelici, anche se si può trovare, perché questo qua è collegato con il tema dell'Olimpo, ok, raga, stessa cosa con Brock, poi abbiamo Colette, che ho trovato anche questa skin demoniaca, bellissima, anche se secondo me non è niente di che, però comunque è una bella skin, e poi me ne sono dimenticato uno che è un genio, angelico, facendo il conto, raga, ne ho trovato, è ben uno demoniaca, poi ne ho trovato, un angelico, quindi siamo uno e uno, poi abbiamo Willow demoniaca, quindi sono due demoniaci, poi abbiamo Lili angelica, quindi sono due e due, poi abbiamo, poi abbiamo, poi abbiamo, fatemi controllare, poi abbiamo Ems demoniaca, quindi siamo a tre demoniache e due angeliche, e poi abbiamo, vabbè, l'era e l'ora lo continuiamo, raga, anche se dal passo, vabbè, è angelica, quindi abbiamo tre e tre, e poi abbiamo angelica, quella di Maxine, quindi sono quattro skin angeliche e tre demoniache, se non ne ho saltato qualcuna, teoricamente non ne ho saltate, ah no, c'è questa di Ems, raga, ma ne ho trovato quattro e quattro, otto skin tra angeliche e demoniache, e voi vi starete chiedendo, quanto è speso per queste skin, ragazzi? Zero, zero euro, perché queste skin, raga, chi magari non lo sa, si trovano già nel catalogo, vi faccio vedere più o meno tutte quelle che si possono trovare, infatti a me, come potete ben vedere, manca solo bodyabolico col tangelo scuro, di quelle che si possono trovare, perché infatti le ho trovate tutte, raga, semplicemente mi mancano ovviamente le skin hypercharge, cose che non abbiamo trattato per quanto riguarda le skin hypercharge, ci sono anche due varianti, perché infatti Edgar c'è un'altra variante, che vi starò facendo vedere qui sicuramente nello schermo, e per quanto riguarda invece Mortis, c'è un'altra variante, quindi sono due varianti che si possono trovare, vi ricordo che queste due skin, quindi sia quella di Edgar sia quella di Mortis, si possono trovare anche in questo tipo star drop, questi giornalieri, perché hanno una poca possibilità, perché infatti erano lo 0,3%, quindi molto molto difficile da trovare, ma molti miei amici l'hanno trovato, che ora vi faccio vedere, raga, degli amici, fatemi controllare, ecco raga, ad esempio, Andy, che è un 80k, ha trovato questa variante, io lo so bene, perché questa non si può acquistare, non è come la prima variante di Mortis, e l'ha trovata. Quindi il mio consiglio è, giocate ogni giorno per i 3 star drop, gratis, che sono questi in basso a destra, e poi mi raccomando non perdetevi questi tornei, perché vi danno l'occasione di trovare un sacco di skin. E chi se lo stesse chiedendo, che rarità hanno queste skin di questo nuovo evento? Vi basterà semplicemente andare nel catalogo, andate nella sezione Angeli e Demoni, eccolo qui, andate nella sezione Angeli e Demoni, e potete vedere, ad esempio, Bo Diabolico, scusatemi, ecco qui a destra ve lo mostra, praticamente è una skin epica, stessa cosa per Colette, stessa cosa per Colt, stessa cosa per Renz Demonica, invece per Eugenio la skin è super rara, raga. Cosa molto importante, raga, tutte queste skin, raga, arriveranno nel negozio, a parte ovviamente le skin del pass, che sono queste delle rellori, tutte le altre potete acquistarle o in bling o in gemme, quindi raga, non vi consiglio di shoppare un sacco di soldi per tutte queste skin, perché tanto in qualche modo lo si trovano, raga, poi ovviamente se siete fissati, volete prendere o Edgar o Mortis, io vi consiglio Mortis, perché Edgar è no skill, non fatelo. E niente, siamo arrivati alla fine di questo video, spero che il contenuto vi sia piaciuto, se vi piacciono queste tipologie di video, quindi con news, informazioni, non solo con rank, mi raccomando, fatemelo sapere sotto nei commenti, io vi aspetto in live ogni giorno, dal lunedì al venerdì, dalle ore 14, bella. Ciao!